Clic! Ben ritrovati Michele Ventoli de Luisona, Barcalcio vi avviso, avvise i naviganti, agli avventoli questa sera c'ho un diavolo per cappello. Sono incazzato come una biscia, dunque vediamo come verrà fuori il discorso, se colorito e di che colore. Intanto qua dietro si vedono delle zampe violace, sono violace, sì, di un gatto probabilmente. Comunque prima di iniziare ad imbatterci nelle nostre incazzature serali, come sempre le buone maniere del canale, iscrizione, condivisione, pollice verso l'altro, qualsiasi cosa adesso si andrà a dire, va bene? Se adesso mi va di parlare, che ne so, del pergolato, voi mettete like. Se adesso a me va di parlare delle mozzarelle, se siano più buone, quelle Santa Lucia, oppure non so, valtellina, stavo per dire vasellame. Se mi va di parlare di vasellame, parlo di vasellame, mi va di parlare di banane, parliamo di banane. Cicchito dal Peru, Ecuador, Venezuela, voi quale preferite? Allora, detto questo, notizia dal fronte Bologna. Domani parlerà Tiago Motta, la sua conferenza appunto pre-partita contro l'Empoli. A Empoli che sarà fondamentale, ognuno si chiederà, ma ci dirà quali saranno le mosse, come faremo, se è fuori un mese, se giocherà Odgad, se giocherà Santiago Casto, se invece farà falso 9 e qualche d'uno, mettiamo Ebis a falso 9, o no, gioca Orsolini, chi giocherà? Non lo sapremo neanche domani, perché la domanda verrà fatta Tiago Motta. Tiago Motta, giustamente, farà pretattica, non ce lo dirà, ma noi domani saremo a raccontare le sue dichiarazioni, vedendo e sperando e vediamo quello che ne uscirà, quello di cui dobbiamo però sperare, e non cagare, quello di cui dobbiamo sperare, e che a Empoli si faccia la partita giusta, e che si esca da Empoli con i tre punti in tasca, perché laddove tre punti in tasca non dovranno essere, non ci saranno, ok? Non usufruiremo di questa tangente con cui bisogna uscire dal Castellani, tre punti, ripeto, non mezzo di meno, allora saranno, incominceranno ad essere cazzi a mare per i Sicari, perché il campionato sta finendo, mancano dieci partite, dopo Empoli saranno nove, e a fine campionato chi deve fare i punti solitamente li fa, basti guardare la lotta per la retrocessione, solitamente chi è che non retrocede? Chi deve fare i punti? Chi è che andrà in Champions League? Chi i punti li farà? Quindi, se noi non faremo punti al Castellani, abbiamo capito, non voglio concludere. Bene, detto questo, ovviamente si sprecano le baccate che ci tocca sentire dal mondo calcistico, non ultima che mi ha fatto in bestialina morte, le stronzate che ho dovuto sentire pronunciare da un signore, che non è per sminuirlo, perché io sono dovuto andare a vedere chi fosse, poi sicuramente molti di voi lo conosceranno, perché per carità ho visto che è stato anche un ex calciatore, ma il signor Massimo Brambati, io dico, se devi parlare di qualche cosa di cui non conosci, non farlo, semplicemente non dare fiato alla bocca, mangia delle banane, mangia il pergolato, ma non dare fiato a casa alla bocca, perché sentire le stronzate di un Massimo Brambati, sinceramente noi se ne si fa volentieri a meno, delle sue considerazioni, delle sue opinioni personali, di cui nessuno ha chiesto. Quindi, che cosa poi ci sarà chi di voi, giustamente dice, ma che cosa ha detto tale signore, con la S minuscola rigorosamente, Massimo Brambati, ha detto una stronzata, ha detto che secondo lui, e ripeto, secondo lui, il Bologna non potrà raggiungere la Champions League perché non ha la rosa attrezzata e aggiunge consiglio a Tiago Motta di andarsene a fine stagione altrove, perché è altrove che troverà quello che vorrà trovare. Allora io, sapete, quando sento tali amenità o scenità cagate, stronzate, io mi incazzo, ok? Chi è che non si può incazzare davanti a una bestemmia del genere, perché queste sono veramente, ha parlato, ha sfiatato l'ano. Massimo Brambati ha sfiatato l'ano e ora ne odoriamo tutti purtroppo la sua puzza. Bene, detto questo, avevamo già raccontato delle dichiarazioni dell'agente di Ferguson su cui non mi voglio soffermare ulteriormente, perché saranno i fatti e non le parole a decidere quello che sarà il futuro di ognuno dei nostri tesserati, perché tesserati equivale a dire calciatori, equivale a dire allenatori e anche dirigenti. Saranno proprio i dirigenti a doversene preoccupare al meglio e a tal proposito, visto che parliamo di dichiarazioni, parliamo di dichiarazioni belle che ho sentito invece pronunciare dall'ex calciatore Sergio Pellissie, chi se lo ricorda, l'ex attaccante del Chievo Verona dei Miracoli, un signor attaccante con la S maiuscola, che ha servito Verona, Spondachievo quasi tutta la sua stagione, tutta la sua stagione, tutta la sua carriera. Penso, ma qui vado a memoria, perché davanti a me c'ho dei gufi appesi al muro, che possa aver giocato forse con il giovanile del Torino e la SPAL, ma vado veramente a memoria, potrei sbagliarmi. Sono sicuro però del fatto che ad oggi, e penso per sempre, rimarrà il bomberone della società Chievo Verona, che tra parentesi, a parer mio, ingiustamente fatta fallire. Mandiamo un saluto affettuoso al signor Campedelli, signor con la S maiuscola, anche in questo caso. Torniamo però alle dichiarazioni di cui stavamo dicendo di Sergio Pellissie, che è stato raggiunto dai microfoni, che adesso mi scuserà l'emittente che gli ha portato dinanzi alla bocca, non mi ricordo quale fosse, quindi mi esulo dal riferire emittenti lotto per il diciotto, quindi facciamo qua amoxicillina, va bene, facciamo che l'emittente amoxicillina, che ovviamente non è l'emittente suddetta, perché non mi ricordo, ma tanto per dare un nome. Sergio Pellissie ha dato parole al miele di Giovanni Fiducia Sartori, spiegando perché non è sorpreso nel vedere anche qua a Bologna che cosa? Un signor dirigente che ha creato, diciamo dal nulla, quasi dal nulla, un'altra volta un signor miracolo, perché prima a Chievo, Chievo Verona, poi Atalanta, Bergamo e ora Bologna, Bologna, ok? Perché dice che non è un mistero per lui? Perché lui sa come opera Fiducia Sartori, dice una cosa, attenzione, di cui noi qua sul canale diciamo da sempre, ancora prima che arrivassero Giovanni Fiducia Sartori, ed è il motivo per cui noi bramavamo un Giovanni Fiducia Sartori. Che cos'è? Qual è la punta essenziale del discorso di Sergio Pellissie su Fiducia Sartori? Dice, occhio perché Sartori le sue fortune se le crea, perché lui è un uomo che fa di tutto per i colori della società della maglia, lui non fa favoritismi ad personam e lui quindi lavora per la maglia ed è anche severo nelle sue decisioni, perché lui non guarda in faccia nessuno. Se sino a ieri gli conveniva, gli conveniva per il Bologna società calcio, magari trattenere un giocatore, essere gentile nei confronti di taluno, lui lo fa. Poi quando però, per l'amore della maglia, lui deve prendere una decisione, quanto dolorosa anche possa essere, Sergio Pellissie dice, andatene certi e tranquilli che lui fa l'interesse della società per cui lavori, quindi lui oggi fa l'interesse del Bologna calcio, lui quella decisione difficile da prendere e dolorosa da comunicare, lui la fa. Altri personaggi di cui adesso non citiamo i nomi, potremmo dire i signori San Benedetto, i signori oligominerali non lo facevano, ok? Invece oggi la fortuna del Bologna è che è arrivato un signore che non guarda in faccia a nessuno, uno che ha la cattiveria giusta. D'altro canto, e io faccio sempre l'esempio che secondo me è il principale in Serie A, perché io sono abituato a guardare i virtuosi e non chi sta peggio, è questo da sempre, no? Quando si diceva eh Luizona, ma c'è il Cesena, il Ravenna, il Forlì, vabbè mola, vabbè mola, ma noi non ci dovevamo paragonare a quelli lì, ma era un insulto a noi stessi, noi ci dobbiamo paragonare alle società invece che fanno meglio di noi. Allora io, ad esempio citando i dirigenti che per me sono i non plus ultra, ovviamente dopo Giovanni Fiducia Sartori, Shemaia, però insomma, ad esempio Piero Ausilio e Beppe Marotta, là in quel dell'Inter, sono degli dirigenti di cui io Piero Ausilio poi, la cosa che si sa da voci terze possiamo, noi famosi cugini con due G, ma è uno che è cattivo, Piero Ausilio è molto cattivo, in passato è stato anche molto sottovalutato, oggi ovviamente non può essere più sottovalutato perché è indubbiamente un signor dirigente che fa il meglio per la sua società e essere cattivo vuol dire anche, io non voglio dire perché poi non voglio prendere delle denunzie, ma magari fa delle cose che poi le denunzie chi le fa le prendono gli altri, si può dire questo avvocato, non lo so, non ho detto niente, poi riferito a chi non si sa, comunque l'abbiamo detto, ecco, ma lo fa per il bene della società, ovviamente tutte decisioni al limite che si possono prendere, ma stando sul filo del rasoio del limite, ci sono dei signori che sanno qual è il filo del rasoio del limite, altri che non lo sanno, in passato avevamo i famosi San Benedetto oligominali che non lo sapevano, quest'oggi invece abbiamo gente, fiducia Sartori, che è bravo a barcamenarsi, ok, su quello che si può fare stando al limite e Sartori è della fattispecie di quegli altri dirigenti, poc'anzi addetti adotti, facciamo pure i nomi perché stiamo parlando di cose virtuose, cose di cui illogiano, no? Beppe Marotta e Piero Ausilio che sanno barcamenarsi in maniera veramente alta locata nel settore aristocratico chiamato calcio. E quindi mandiamo un saluto a loro che sicuramente ci stanno guardando Sartori che sicuramente qua ogni sera che ci guarda, Tiago Motta e compagnia belle cantanti, tutta la rosa, va bene, permesso e concesso, grazie. Detto questo, dunque, meno male che Pellissier ha fiatato in maniera profumosa invece, invece altri sarebbe meglio che stiano zitti, ora e sempre. Ebbene, detto questo, io adesso mi taccio, ho già detto anche troppo, potrei parlare di cose extracalcistiche questa sera, ma non lo farò, non lo farò e dunque vi saluto, ovviamente le cose che ci siamo detti ad inizio video, in più campanaccio pastorale che ve lo dico a fare, volete vedere una cosa bella? Guardate, c'è anche il calendario dei Pinz, chi è? Chissà chi come si chiama lei. Vediamo chi è arrivato a 11.40, scrivetemelo, box, commenti a vostra disposizione e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.